Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in piazza Garibaglia a Teramo, i funerali di Gabriella D. Ottavio, la 64enne, travolta lunedì sera sul via Brodolini da un minibus di 19 posti, mentre rientrava a piedi verso casa, distante da lì, poche centinaia di metri, direzione Torricella Sicura. La donna è stata investita e subito dopo è stata travolta quando era a terra, riportando profonde ferite al capo e all'addome, ferite appunto compatibili con l'investimento stradale. E tanto quanto emerso dall'esame autoptico eseguito nel tardissimo pomeriggio di ieri dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra presso l'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo, impossibile al momento stabilire se la vittima possa aver avuto un malore prima di essere travolta. Per chiarire questo aspetto si dovrà comunque attendere l'esito degli esami tossicologici e biologici tra 60 giorni. L'ipotesi di reato a carico dell'autista del minibus privato che ha travolto la donna arresta per adesso l'omicidio stradale. Il PM titolare dell'inchiesta, la dottoressa Silvia Scamurra, ha concesso ieri sera il nulla osta per la sepoltura. I funerali di Gabriella si svolgeranno domani alle 15.